La distinzione fra materie umanistiche e materie scientifiche è un artificio culturale che deriva da una certa tradizione culturale che ha ereditato soprattutto il nostro sistema scolastico. La ricerca è ricerca, è tentare di capire come funziona la realtà e i temi possono essere dai più vari ai più diversi. L'unica differenza vera sostanziale è il metodo, cioè se si applica un metodo scientifico o meno. Certamente che esiste una ricerca che si occupa di materie umanistiche anche se spesso viene dimenticato in Italia quando si parla di ricerca. Si parla soprattutto di ricerca scientifica, invece ci sono molti ricercatori, docenti universitari che fanno ricerca nel campo della musica, dell'arte, della comunicazione. È un preconcetto pensare che le scienze corrispondano a delle esigenze di esattezza, di precisione e di previsione a differenza delle discipline umanistiche. In realtà anche le discipline umanistiche, quindi gli studi filosofici, letterari, storici, rispondono e sono guidati da criteri scientifici. Se per scienza intendiamo definire prospettive, ipotesi, tesi, verifiche. Esattamente come nelle discipline scientifiche non prescindiamo e non dobbiamo prescindere mai dal rigore del controllo e della verifica. La ricerca in campo umanistico è abbastanza diversa forse da quella che immaginiamo nel mondo scientifico. I nostri laboratori sono certamente le biblioteche perché maneggiamo molti libri, ma tutti i supporti multimediali sono diventati i centri della nostra ricerca. Perché siamo, come dire, delle unità di ricerca scatenate sul territorio. In questo dipartimento, che è il Dipartimento di Disciplina della Comunicazione, ci sono soprattutto tre filoni di ricerca. Un ambito psicologico, un ambito sociologico e un ambito semiotico. Questo è un dipartimento abbastanza grande, che è il Dipartimento di Psicologia. Psicologia è un mondo che ha tante anime, noi diciamo spesso. Nel particolare il mio gruppo di ricerca si occupa di neuropsicologia o di neuroscienze cognitive. Cioè noi studiamo le basi neurobiologiche dei processi mentali. Quindi studiamo le conseguenze delle lesioni cerebrali. Oppure studiamo anche il funzionamento del cervello in soggetti sani, attraverso diverse tecniche che ci permettono di studiare i processi cerebrali in vivo, mentre i soggetti svolgono determinati compiti, fanno determinate operazioni e vengono sottoposti a determinati esperimenti. Il Dipartimento Italianistico è una realtà piuttosto complessa, composta di varie anime di diversa formazione ed esperienza. L'attività di ricerca si svolge a molti livelli. Contrattisti, dottorandi di ricerca, segnisti, ricercatori e docenti si occupano di studi filologici, di analisi critica, di studi di comparatistica, anche interdisciplinari, di mediazione didattica. Per quanto riguarda i luoghi in cui si svolge la ricerca, oltre che nelle aule universitarie, naturalmente anche nelle biblioteche, negli archivi, nei teatri, nei convegni. Un Dipartimento come il mio, che è un Dipartimento di lingue e letterature straniere, prevede che il ricercatore nel suo lavoro si muova moltissimo, vada un po' in giro per il mondo, osservi le realtà diverse dalla nostra, in qualche modo riporti le culture dell'altro a casa nostra, per discuterle, per metterle a confronto, per indagare tutto quello che ci sta dietro. Io sono molto orgogliosa del rapporto che si riesce ad avere con il mondo delle imprese, delle aziende, delle professioni, con il mondo del lavoro. Ne sono particolarmente orgogliosa proprio perché va a sfatare quel pregiudizio per cui le discipline umanistiche danno meno sbocchi professionali. Invece si riesce a lavorare molto bene a tutti i livelli, sia di ricercatori, sia di docenti, sia con gli studenti, sia con i dottorandi di ricerca. E soprattutto, se riguardo ai ragazzi che sono riuscita a inserire nel mondo del lavoro nell'ultimo anno, ecco, di questo sono particolarmente orgogliosa. Abbiamo sviluppato una tecnica di riabilitazione per una malattia neuropsicologica che si chiama NEGLECT, che viene dopo lesione dell'emisfero destro. E questo trattamento è particolarmente efficace. Abbiamo riabilitato tanti pazienti in questo modo, con questa tecnica, ed è utilizzato attualmente in tutto il mondo e sembra essere il trattamento maggiormente efficace. Un altro ambito in cui siamo particolarmente forti, diciamo, dal punto di vista del gruppo di ricerca, è quella dello studio dello spazio, ed in particolare dello spazio intorno al corpo che si chiama spazio peripersonale. Siamo stati i primi a dimostrare e a capire come funzionano queste rappresentazioni nell'uomo piuttosto che nell'animale. Il lavoro svolto in questi anni nel corso di letteratura italiana, in particolare letteratura teatrale italiana della professoressa Giovanelli, con la quale collaboro da 13 anni, sono diventati dei materiali per delle lezioni spettacolo, degli spettacoli veri e propri. In questo modo riusciamo all'interno dei corsi a far interagire e diventano delle occasioni di confronto per gli studenti i temi di cui si tratta nei corsi e i testi di cui si tratta nei corsi con il mondo dello spettacolo, dell'arte e i loro protagonisti. L'attività del Dipartimento trova poi amplissimo riscontro in convegni internazionali molto importanti. Se posso dire di me e del mio lavoro specifico, io mi occupo della letteratura americana, ma sicuramente è un convegno a cui sono molto affezionato, perché si era caratterizzato come una specie di unicum nel panorama internazionale sui temi della cultura afroamericana, del jazz e della letteratura. È quello il cui manifesto, vedete, alle mie spalle. Si chiamava Gestalt Tales, ha ormai una decina di anni di vita. Aggiungo che il nostro Dipartimento si è anche reso internazionalmente famoso per aver messo a punto un dispositivo tra l'informatico e lo statistico che è quello che abbiamo definito un atlante topografico della ricerca, l'abbiamo chiamato planisfero della ricerca, che consente di tenere traccia proprio sui nomi dei singoli ricercatori o sui nomi delle singole ricerche di tutti i rapporti internazionali e delle collaborazioni con le università di tutto il mondo. Grazie a tutti!